Pesce e Basta Il grande successo che viene prolungato e della quale ci parla il 1 di Tolari, Vincenzo Lamonica. Ciao, effettivamente ci incontriamo nuovamente a distanza di pochissimo tempo per ricordare questa iniziativa di gran successo al punto tale che abbiamo deciso di prolungare l'iniziativa fino a data da destinarsi in quanto abbiamo delle prenotazioni da soddisfare e quindi di conseguenza ci siamo ritrovati con questo successo in tutta onestà quasi inaspettato, però che ci riempie di gioia e ci dà comunque la forza di andare avanti e di comunque progettare nuove iniziative come quella ad esempio che promuoviamo il venerdì sia a pranzo che a cena che è Baccalà e Basta a un prezzo di 24,90 euro che comprende un antipasto, un primo e un secondo. Comunque martedì e giovedì pranzo e cena a 19,90 mentre il venerdì un'iniziativa dedicata al Baccalà qual è il piatto che secondo lei è stato più apprezzato dai clienti? Il piatto più apprezzato è sempre quello sicuramente in chiave tradizionale che può essere ad esempio un ogniocchetto tirato a mano con delle patate della sila IGP del ragù di polpo e della stracciata questo potrebbe essere uno dei piatti che effettivamente ha colpito di più